Bentorni sul mio canale, qui JimmyChamer05 Oggi come avrete letto dal titolo faremo lo speciale 50 iscritti Con i pacchetti di Adrenalix Non solamente con questi pacchetti ma anche con quest'altri Aspettate Con quest'altri ne abbiamo quasi 30 Ne abbiamo quasi 30 Allora, incominciamo da questi Io ce l'ho aperto E queste possono uscire le carte top blu scritto E in uno che ha aperto E sono usciti 3 giocatori consecutivi dell'Inter Ok, apriamo Ora di trovare un top Ok, Iaic Orsolini Vabbè, qua Bologna, Sampdoria Spal e Spal Purtiere e Spal Vabbè, non abbiamo entrato niente di questo pacchetto Un'idolo sta Kurtic L'idolo di Mirante Magnanelli Magnanelli Perotti Babacar E Rodriguez Ma non ho capito Ma qua escono le I top player Non sto capendo Pugioni Borriano Stella Doppione Ionita Coda Pazzini E Gianto Brozovic Portierone Donna Rum Minkovic Cabrera Vabbè, Torino E Cazzolla Una stella ci sta E temai La stella I supereroi I tre moschettieri ragazzi I tre moschettieri Buono Vabbè Qua Crotone Genova Spal E Udinese I tre supereroi Buono Ragazzi Speramente buono Skriniar Eder Tutto lì Tutto lì Intermo Guarda Medella Boie Atalanta E la Speruna Niente Vabbè Andiamo Adapri No Qui troviamo Kolarov Ceravolo Idolo Genova Crotone Bologna Inglise Ce ne mancano Altri Sei Spal Sampdoria Cagliari Bene La carta è vincibile La carta è vincibile La carta è vincibile Ragazzi Ragazzi La carta è vincibile L'eccolo L'abbiamo trovata La carta è vincibile Ragazzi La carta è vincibile Che scolato La carta è vincibile Passiamo avanti La carta è vincibile Bene Bene Ok Cagliari Cagliari Genova Crotone Sampdoria Chiavo Verona Chiarinidolo Doppione Tu lo tieni Chiarinidolo Scambio Crotone Genova Benevento Benevento Udinese Udinese Brozovic E Pelissier Idolo Ma altri due pacchetti Vabbè Qui La carta per giocare online Sanchez Chiavo Verona Udinese Benevento Fiorentina Il muro d'acciaio No Aspettate Io lo tengo Che Che